Finalmente, insieme. Nasce in città la sinergia per contribuire a realizzare il sogno di tanti giovani nisseni. Le scuole calcio di Caltanissetta si ritroveranno infatti per la prima volta domenica allo Stadio Marco Tomaselli e abbraceranno la Nissa, maggiore espressione calcistica del capoluogo, con un solo obiettivo, la collaborazione. Tanti ragazzi riempiranno il maestoso impianto in occasione della prima gara del girone di ritorno del campionato di eccellenza che vedrà opposta la Nissa al Casteldaccia. I giovani atleti si presenteranno alle 14.30 davanti l'ingresso dello stadio per poter entrare tutti insieme e qualche minuto prima della partita faranno un ciro di campo per riunirsi sotto la tribuna mostrando uno striscione con la scritta «Insieme si può con la Nissa». L'iniziativa nasce da un incontro dal direttore generale della società biancoscudata Vincenzo Cancelleri e i rappresentanti delle scuole calcio cittadine. Natale Ferrante dello Sport Club Nissa 1962, Salvatore Cataldi, New Team, Caltanissetta, i fratelli Fabrizio e Valentino Fama, Football, Caltanissetta, Gianluca Italia, CL Calcio e Antonio Lopiano, Caltanissetta, Soccer.